Travolto dal legname che stava trasportando, è stato soccorso e recuperato dai vigili del fuoco. È successo questa mattina in una zona impervia della frazione di Montanare di Cortona, dove un settantene, dopo essersi ribaltato con un camion che trasportava legname, è rimasto incastrato nell'abitacolo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Cortona con una gippa attrezzata. È stato richiesto anche l'intervento del Pegaso, ma a causa del forte vento non è stato possibile agganciare l'uomo con il verricello. Fortunatamente le operazioni di soccorso sono state portate a termine dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco, che ha trasportato così l'uomo alla piazzola dell'ospedale della Fratta. Il settantene è stato poi trasferito a Careggi in codice giallo a causa di un trauma cranico con motivo addominale, costale ed infine ad un braccio.